Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi parleremo di un pericolo che possiamo incontrare per i nostri animali soprattutto durante queste giornate calde, ovvero il colpo di calore. Sono Camilla Marchetti, medico veterinario nutrizionista e faccio parte del gruppo Nutravet. Prima di parlare di colpo di calore mentre Abby fa la pazza, facciamo un passettino indietro, ovvero come fanno i nostri animali a termoregolare, quindi a dissipare calore, regolare la temperatura corporea a seconda della temperatura ambientale. Teniamo presente che, potete tranquillamente farci caso, quando ne abbiamo troppo caldo sudiamo, sudiamo su tutto il corpo. Abbiamo delle zone con maggiore presenza di ghiandole sudoripare, però tendenzialmente iniziamo a sudare dappertutto. Questo sudore ci permette di dissipare il calore. Se voi ci fate caso, i nostri animali non sudano o quantomeno sudano pochissimo nella zona di polpastrelli, però ovviamente paragonata a tutta la superficie corporea non è minimamente sufficiente questa piccola percentuale di sudore che viene prodotta. Quindi come fanno a dissipare calore qualora ce ne fosse bisogno, qualora le temperature esterne fossero troppo alte? Loro termoregolano tramite la respirazione e infatti li vedete spesso e volentieri quando hanno caldo che respirano a bocca aperta in maniera accelerata, quindi in polipnea o addirittura in tachipnea, cioè respiro molto molto accelerato. Questa respirazione accelerata permette appunto di far uscire più facilmente e più rapidamente il calore in eccesso. Questo avviene anche solo dopo uno sforzo intenso, dopo una corsa, come quando noi facciamo sforzo fisico e sudiamo, loro allo stesso modo respirano così. Se ci fate caso non tutti i cani sono uguali naturalmente, quindi avremo i cani cosiddetti dolicocefali, quindi con la canna nasale più lunga che hanno più spazio per fare questo passaggio d'aria e quindi dissipare il calore del respiro. E poi invece ci sono i cani brachicefali, quindi a canna nasale corta, come possono essere bulldog inglesi, bulldog francesi e così via, che hanno molto meno spazio per far passare l'aria ed effettuare questo raffreddamento. Quindi questo cosa vuol dire che anche a seconda della razza e della conformazione fisica del nostro cane saremo più o meno a rischio di avere un colpo di calore. Quindi a prescindere dalla tipologia di conformazione del nostro cane, loro fanno molta più fatica a rinfrescarsi rispetto a noi. Teniamo presente anche che noi siamo nudi, nel senso non abbiamo peluria addosso, non abbiamo una pelliccia addosso. È anche vero, attenzione, che comunque sia il pelo fa un po' da isolante termico su di loro. Quindi paradossalmente sentirà molto più caldo un cane nero a pelo corto piuttosto che, come ebbi, uno bianco a pelo lungo, perché ha un filino di strato isolante. Ciò non toglie che sentano molto di più il caldo rispetto a noi, anche perché loro hanno una temperatura corporea che è più alta rispetto alla nostra. Temperatura al media di un cane oscilla tra i 38 e 39 gradi, se noi ci pensiamo. La nostra è all'incirca 36-37 a seconda di ciascuno, però comunque sia partono già con una temperatura più alta. Quindi qualunque minima variazione o aumento della temperatura corporea può avere effetti molto più gravi per loro. Cos'è quindi il colpo di calore? È un'emergenza medica vera e propria e c'è pericolo di vita. Attenzione che il colpo di calore non colpisce solo i nostri animali, può colpire anche noi. Chiunque di noi può prendere troppo caldo e non riuscire a quel punto a dissipare a temperatura corporea, sale eccessivamente a temperatura corporea e si frigge letteralmente il cervello. Solo che a loro può capitare molto più facilmente che a noi. Ecco la condizione per cui appunto il corpo non riesce più a raffreddarsi. Quindi noi potremo iniziare a vedere il nostro animale che non solo ha ansi, ma come in questo momento ebbi che ha corso un pochino. Cioè non è un'ansimare normale che però si riesce a calmare. E' un'ansimare molto molto pronunciato con la lingua in fuori che può addirittura diventare bluastra o violetta. Quindi vuol dire che il corpo non sta termoregolando, non c'è scambio sufficiente d'ossigeno e così via. Si può arrivare poi a uno stadio successivo in cui l'animale va infame d'aria, quindi si estende per cercare di poter assorbire e avere più aria possibile fino ad arrivare a uno stato di collasso, convulsioni e addirittura la morte. Come possiamo fare quindi per evitare questo fenomeno? Intanto lo so, sembra scontato, ma non lo è mai, lo ripeto sempre. Non si esce con i cani nelle ore più calde, ovvero se si deve fare una passeggiatina in più si va la mattina presto presto o la sera tardi. Attenzione, piccola nota. Non si direbbe mai, ma la sera tardi è quasi più facile avere colpi di calore che la mattina presto. Questo perché il terreno ha assorbito il calore durante tutta la giornata e lo tende a rilasciare, soprattutto nelle grandi città dove è presente l'asfalto. Quindi la sera ci sarà una temperatura molto maggiore, anche se è buio, è molto maggiore rispetto alla mattina presto. Quindi se dovete fare attività fatele preferibilmente la mattina o comunque sia la sera potete fare delle attività leggere senza esagerare. Attenzione che non risentano troppo del caldo, per esempio non vi mettete al ristorante all'aperto con il cane spiaggiato lì sull'asfalto bollente che ha assorbito per tutta la giornata a 45 gradi di sole. Un'altra accortezza è avere sempre l'acqua a disposizione. L'acqua perché? Perché comunque sia serve non solo per farli bere quando non sete, anche noi infatti col caldo beviamo molto di più, ma può servire per bagnarli perché una delle primissime cose da fare se notiamo il nostro cane troppo accaldato è bagnarli. Dove è possibile immergeteli completamente, dove la dimensione non lo consente bagnateli soprattutto nelle zone più esposte, quindi la testa ma non solo, anche le zone con meno pelo, quindi dove c'è più pelle esposta, che riescono a rinfrescare più facilmente polpastrelli, l'interno delle cosce, le ascelle, il torace, la pancia e così via. Un'altra accortezza è quella di scegliere sempre posti ventilati e all'ombra. Anche lì non serve dirlo in teoria, però non si va al mare con il cane a luna di pomeriggio sotto al sole, si va al mare magari la mattina presto sotto un ombrellone in una giornata ventilata perché un'altra cosa che fa sentire molto più caldo, lo sappiamo benissimo anche per noi, è proprio l'afa, quindi mi raccomando che sia una zona abbastanza rinfrescata. La stessa cosa può valere anche per quei cani che fanno attività in acqua, perché comunque è vero che in acqua si sta più freschi, ma nel momento in cui usciamo, se non abbiamo vento, non abbiamo modo di rinfrescarci, il caldo lo sentono uguale. Quindi sì alla passeggiata, bagnati, sì al bagnettino al mare, in spiagge e così via, però mi raccomando dopo aver fatto il bagno o dopo che ci siamo asciugati non stiamo sei ore al sole perché sennò a quel punto abbiamo perso tutti i benefici. Fate attenzione anche ai lunghi tragitti in macchina perché è vero che c'è l'aria condizionata, però spesso e volentieri la macchina rimane al sole per tante ore e si scalda molto più di quanto non riesca a rinfrescare poi l'aria condizionata, quindi non sempre è sufficiente. Anche lì sarebbe bene o bagnare l'animale o fare in modo che sia più ventilata l'aria o comunque sia fare delle piccole soste in cui si può far bere. Mi raccomando perché spesso e volentieri i colpi di calore possono avvenire anche in macchina. Particolare attenzione oltre ai cani brachicefali anche i cani di piccola taglia perché anche qui noi non ci pensiamo essendo che camminiamo con le scarpe, ma come dicevamo prima l'asfalto, il pavimento è caldo, quindi tutti quei cani piccoli, i cani toy sono praticamente a diretto contatto con il caldo e li va direttamente sull'addome, quindi si scaldano molto più facilmente di un cane di taglia gigante. Oltretutto prestiamo attenzione perché l'asfalto scotta e si possono creare delle vere e proprie ostioni sui polpastrelli, anche molto dolorose. Lì noi ovviamente non è cattiveria, non ci pensiamo perché noi andiamo con le scarpe e non percepiamo questa cosa, ma se voi provate ad appoggiare una mano sull'asfalto di qualunque città d'estate a fine giornata, credetemi che è veramente rovente. Cosa fare quindi se si sospetta un colpo di calore? Come prima cosa bagnare l'animale, quindi a questo ci serve l'acqua che ci portiamo sempre dietro. Altra cosa da fare, se ne avete la possibilità e se il vostro cane è abituato a farsi fare questo tipo di manipolazione, misurare la temperatura corporea, perché se la temperatura inizia a salire sopra i 40, 41 o addirittura 42 gradi, la situazione è molto molto grave. In ogni caso, se avete dei dubbi, oltre a bagnarlo, fiondatevi immediatamente nella clinica veterinaria più vicina, in modo tale da poter dare assistenza, fluidi, farmaci anti-shock, perché appunto c'è un collasso vero e proprio dell'organismo, ricovero e così via. Ricordatevi che più è tempestivo l'intervento e più possibilità ci saranno di recuperare, perché se poi la temperatura va sopra i 42, 42 gradi e mezzo per troppo tempo, purtroppo l'organismo non ha modo poi di uscire da un trauma così importante. Quindi mi raccomando, è una vera e propria emergenza medica. Nonostante il caldo, comunque l'estate può essere un periodo in cui ci si diverte insieme e si fanno tante cose belle. L'importante è farle in sicurezza e prendere le dovute precauzioni. Come dico sempre, è sempre meglio un cane annoiato piuttosto che un cane in colpo di calore, quindi usate la testa e fate un pochino il paragone con voi. Se per voi è troppo caldo per farvi una corsettina, sicuramente troppo caldo anche solo per fare una mini passeggiata con il cane. Quindi si scende per pipì e popò e basta. So che il colpo di calore è un qualcosa su cui siete preparatissimi, perché ormai se ne sente parlare tanto. Però purtroppo gli incidenti capitano e non per forza deve essere negligenza dei proprietari. A volte è proprio una questione di minuti, perché la situazione diventi irreparabile. Quindi fatemi sapere cosa ne pensate dell'argomento, se avete mai avuto paura che il vostro cane o il vostro gatto fosse in colpo di calore, come avete risolto la situazione e soprattutto lasciatemi un like e seguitemi.